ciao ragazzi buongiorno benvenuti qua sul mio canale io sono vivo libero sicuramente lo sapete già allora perché questo blog vi voglio fare un annuncio molto importante non è una bella cosa non è neanche una brutta cosa io mi rivolgo un po' a tutti un po' a chi è iscritto un po' a chi si deve iscrivere ma che mi segue lo stesso allora ragazzi io vi volevo dire questo purtroppo ho alcuni problemi di internet io sto pubblicando lo stesso dei gameplay sto pubblicando qualcosa come questo blog che sto facendo adesso però purtroppo ho dei piccoli problemi o internet che prende praticamente un cazzo io non so perché continuo ad avere questi problemi ho cambiato migliaia di addetti internet da team a wind o vodafone o vodafone no avevo fast web ho avuto tante altre cose quindi sl non sono mai riuscito a trovare una linea che mi abbia dato quello che poteva darmi l'unica che andava bene era fast web però il problema è che era troppo cara a mese quindi ho dovuto toglierla per quello perché purtroppo era cara fast web andava troppo bene andava benone potente anche se non è comunque fibra perché qua dove sono io purtroppo fibra non arriva e arriva solo fino a 8 chilometri da qua quindi purtroppo la fibra non c'è ancora però comunque fast web prendeva bene molto bene quindi su 20 giga cioè su 20 mega che mi davano prendevo 15 mega mentre io adesso su team mi danno 20 mega e prendo 2 3 mega più o meno una cifra così e pago per 20 mega quindi è una presa per il culo proprio ieri ho provato a fare lo speed test per vedere gli upload perché per fare una live servono gli upload e ragazzi il meno possibile per fare una live e stare dentro tra il mille no e i 4 mila chilobite chilobit no beh tra i mille i quattromila io avevo mille mille venti cioè sto pagando per venti mega venti mega avrei dovuto avere non dico tantissimo però almeno 4 5 mila e quindi non posso far live che o vi porto una merda perché c'è il minimo normale vuol dire mille no mille 80 ci vanno già dai 6 agli 8 mila per 750 ci va dai mille i 4 mila quindi avrei dovuto passare ancora e ragazzi o vi porto il bianco e nero o se no devo per forza trovare un'altra soluzione anche perché non ce la faccio neanche a fare le pubblicazioni cioè io adesso sto mettendo a pubblicare un video e questo video ragazzi mi sta ci sto mettendo tre ore per un video di mezz'ora neanche quindi è una cosa assurda cioè devo stare in ballo per tre ore con una pubblicazione per un video di mezz'ora cioè se fosse una live che devo pubblicarla quando mi ci va e quindi vediamo un attimino io adesso proverò cercare altre soluzioni e in qualche modo farò sto ritrovando anche dei problemi con un programma che uso per editare che mi sta creando dei problemi non so perché motivo alla memoria del computer cioè solo ed esclusivamente quando lo utilizzo e non riesco a capire perché me lo fa mi manda il papa la memoria del computer per dire già 47 gile disponibili no utilizzo questo programma e la memoria del computer e la memoria del computer mi dice che ne ho solo 7 e me lo segno in rosso e la memoria è quasi esaurita aspetto una giornata che si tranquillizza il tutto ritorno a 47 non riesco a capire perché mi fa sti sbalzi assurdi di di memoria non riesco a capire cose che quando avevo wonder shell film ora non me lo faceva non me lo faceva era tutta un'altra cosa però purtroppo bisogna pagarla e in questo momento ragazzi io non posso per quello che io vi dico sempre aiutatemi in qualche modo cioè aiutatemi a tirare sul canale io posso raccimulare quel pochino per cercare di agevolarmi su questa cosa cioè io vi dico ragazzi dovrei comprare un computer nuovo perché se no i gameplay non riesco più a portarli dovrei comprarmi dell'attrezzatura che mi serve per farvi gameplay e per com'è che si dice per intrattenervi dovrei avere internet come si deve quindi cioè quello che mi arriverebbe sono praticamente soldi che utilizzerei per questo capito anche perché con youtube non è che guadagni sa che cosa magari riuscisse guadagnare delle cifre come dei famosi youtuber però non ci sono ancora per niente arrivato e non c'è mi sa che non ci arriverò mai e questo è l'annuncio che gli volevo dare vi volevo avvisare che se per caso capitasse che non ci sono video per qualche tempo e non mi sentite sul canale per una settimana 15 giorni o quello che non preoccupatevi perché non è niente di particolare solo perché ho avuto questo problema ok ragazzi vi volevo solo dire questo e poi intanto in questa settimana cercherò un attimino vedrò un attimino come fare perché io volevo iniziare anche con le live però è nostro problema è già un po che ci sto girando volevo iniziare a portarmi live magari su youtube e poi non ancora un canale twitch mi porterò magari anche quello piano piano però ragazzi finché non riesco a risolvere questo problema non ci riuscirò bene ok scusate se mi sentite un po così ma sono influenzato quindi ok io bene niente per adesso ancora niente da dirvi d'altro vi porterò adesso vi sto portando farming simulator come sempre faremo magari finita questa serie faremo un'altra serie magari su farming però sulla silvicultura avevo già provato una volta avevo trovato dei problemi bug perché devo scaricare delle mappe oppure vediamo magari studiarla su un'altra mappa una mappa normale dove ci sono anche dei campi magari vedere su quei campi magari seminare perché anche lì ci sono delle modi che si potrebbero inserire adesso vediamo cosa riesco a fare e poi volevo vedere di scaricare di portarvi degli altri giochi ragazzi però vedete finché non riesco ad avere un piccolo guadagno io non posso fare niente perché i giochi costano io purtroppo non ho la possibilità in questo momento quindi mi dovete mi dovete portare pazienza ok bene io vi mando come sempre un grosso bacione un abbraccio grandissimo da vivo libero e cercherò di misurare cercherò di rinnovare vediamo un po cosa riesco a fare con questa linea ok ragazzi bene vi saluto mi raccomando seguitemi tanti bei like condividete tutti i miei video aiutatemi a far crescere questo canale ok e vedete che piano piano miglioreremo anche sulle cose io adesso ragazzi comunque non è non sono ancora anche perché comunque il mio canale è un canale giovane è solo un anno e mezzo un anno e otto mesi quindi io non è che sono ancora tantissimo abituato con voi ci va l'apitudine quindi cercherò comunque di parlare con voi come parlo con un amico ok cercherò di essere il più simpatico possibile ok ragazzi bene ancora un grosso bacione ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao